Buonasera dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Nicola Giannattasio. Sulla FIPILI in direzione Firenze ci sono 5 km di coda per traffico intenso tra Lavoria e Pontedera Ovest-Ponsacco e code a tratti tra Cascina e Gello in direzione del Bivio-Firenze-Livorno. In A15 4 km di coda per lavori tra Pontremoli e Berceto in direzione Parma. In A1 rallentamenti tra Firenze-Impruneta e Firenze-Sud in direzione Roma. Sulla Grossetofano riduzione di carreggiata per una frana nel tratto compreso tra lo svincolo di Alberoro e quello di Montagnano in direzione di Montagnano dal km 5 al km 4. Sul raccordo Siena-Firenze scambio di carreggiata per lavori tra l'allacciamento A1 Firenze-Impruneta e San Casciano Nord in direzione Siena. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!